Anche l'estate torride e la mancanza di pioggia avrà contribuito ai 29 sforamenti di PM10 ad Avellino, che torna a fare i conti con l'allarme smog e il Comune corre ai ripari per limitare i danni. A settembre, tre domeniche ecologiche e lo spostamento del 20% delle corse scolastiche da Piazza Kennedy nell'area antistante, l'autostazione. Il 10, il 17 e il 24 settembre, dalle 8 alle 20, la circolazione sarà interdetta nel centro cittadino. Ma non è tutto, entro il 10 settembre a Palazzo di Città si terrà una conferenza di servizi per rendere effettiva l'ipotesi di trasferimento di una parte del terminal in via Pini. Assistiamo all'ennesimo annuncio di foto, dichiara Giordano, si insegue sempre l'emergenza mentre la mobilità in città andrebbe completamente ripensata. Gli sforamenti non sono una cosa di oggi, le domeniche ecologiche non sono una bella iniziativa popolare, sono semplicemente la toppa che può coprire un buco, ma siamo alle toppe, non è che stiamo ai esempi edificanti. Ci vorrebbe un nuovo pensiero di città, un nuovo pensiero di movimento all'interno della città, un nuovo pensiero e nuove abitudini sia di chi deve governare il traffico, sia di chi del traffico fa parte, cioè i cittadini, i mezzi. Intanto, a proposito di annunci, Foti ne riserva uno anche sulla questione parcheggi. Lo ha fatto ieri in Consiglio Comunale, dichiarando che da lunedì nelle aree chiuse di sosta entreranno in funzione i parchimetri. Il primo cittadino ha ammesso che ci sono stati e ci sono difficoltà e ritardi. Si sono perse settimane per allocare i parcometri in prossimità delle aree chiuse. Ora però che tutti sono installati, l'adempimento del pagamento del ticket con le colonnine verrà vigilato anche da usiliari del traffico e vigili urbani per tutelare le aree dagli abusivi.